Toscana la bellezza fuori dalle cartoline di Vanni Santoni dopo aver finito il testo su Firenze lo stampo e lo faccio leggere a un'amica e collega ottima critica perché severissima e particolarmente utile in questo caso proprio perché né Fiorentina né Toscana lo finisce appoggia i due fogli sul tavolo dalla sua espressione che negli anni ho imparato a leggere capisco che lo approva e ne sono sollevato poi però dice facile comunque trovare la poesia in Santa Croce in San Mignato al Monte nelle logge del pesce e del grano o al Duomo tra i fraseggi di Anolfo Giotto e Brunelleschi forse non ti rendi conto del fatto che in realtà è più difficile che intendi intendo che Firenze e i suoi sassi in quanto sovra rappresentati sono difficili da riportare in un'opera senza essere pedanti lo puoi fare al massimo dopo decenni di frequentazione costante guarda i quadri dei pittori che si appostano sul lato del Duomo o i disegni che schizza l'occasionale studente d'arte americano appollaiato sul ponte di Santa Trinita fanno orrore ma cosa c'entra c'entrano perché non è colpa di chi è colpa del fatto che troppe volte Firenze che opera compiuta è stata passata e ripassata rappresentata e celebrata sei pur sempre sulle spalle dei giganti ai loro piedi vorrei dire ma se vuoi che esca da Firenze facile la fai dici così e magari vai a Siena o a Pisa no al massimo a Lucca o a Livorno Siena e Pisa sono inquinate dall'oleografia quanto Firenze e non avrei neanche quel vantaggio magro che è l'averci vissuto una vita quindi immagino che vi terresti anche la campagna sai i colli i cipressi la guardo intendi San Quirico d'Orcia dopo mille calendari sui Tuscani e chissà quanti passaggi di vedutisti è difficile davvero dire qualcosa ma qualcosa si può dire lo si può smitizzare ad esempio quel mucchio di cipressi rivelare che di quei boschetti oggi tanto amati dai fotografi una volta ce n'erano a dozzine si chiamavano tomboli e non erano altro che nascondigli per i cacciatori postazione di tiro né più né meno ecco forse per parlare della campagna toscana e non essere oleografici bisognerebbe partire proprio dalle fucilate da quel che non ti aspetti e cosa non mi aspetto sentiamo vediamo ecco si potrebbe cominciare da san galgano dall'abbazia scoperchiata dove non va nessuno eppure è più bella di quelle con il tetto e poi magari da lì scendere a petriolo o a saturnia a fare i bagni caldi di notte beninteso o ancora da tutte quelle pievi ignorate snobbate fuori da ogni circuito l'abbadia a colti buono mai sentita no lo so bene ecco andrelli oppure salirei in secchietta fino ai pascoli alti e alle antenne militari sulle tracce dei cercatori di funghi magici passando va da sé per il borgo di chiassaia che non è popolato di olandesi ricchi ma di vecchiette di vedetta sulle seggiole davanti all'uscio per comprare la schiacciata e poi scendendo dalla vetta passerei dal paradisino sopra la vallombrosa l'eremo candido dove emilton scrisse il paradise lost potrei fare così e tirare il fiato nel ricordare a me e a chi mi legge che viva dio c'è una toscana non ancora spossata dal turismo dalla reiterazione in mille foto e disegni e celebrazioni a mezzo scrittura andrei al castello di fos di novo su di lunigiana che pure maledetto andrei di obono a pianosa o a capraia in galera e ci rimarrei vedi non se ne esce sotto 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 cosa sotto sotto prenderesti i posti belli non è colpa mia se la è tutta bella siete proprio i francesi d'italia che vorresti dire che pensate di essere di gran lunga e migliori ma lo pensate solo voi forse ma intanto parigi brutta brutta non è non solo pensate di essere i migliori in virtù di una gloria che bella che passata fingete di snobbarla invece vi ci appoggiate vi ci crogiolate avessi ad andare quel viziato del toscano continua lei proterva a cercare la bellezza in via di novoli visto che state spostando tutto lì visto che il presente di firenze è lì oppure dato che ti piacciono le galere altro che pianosa e capraia vai a sollicciano dai galeotti di oggi non da quelli dell'altro ieri e vediamo scopriremo che la cosa più bella della toscana è via di sollicciano basterà novoli per farti abbassare il capo tranquillo così un giorno trovandomi a atterrare a peretola al mattino presto invece di prendere la solita navetta decido di raccogliere la sfida e farmela a piedi taglio uno svincolo e due aiuole perché gli aeroporti oggi non sono fatti per essere raggiunti o lasciati senza pagare qualche balzello e comincio proprio da via di novoli lì dietro eccola comincia con un distributore di benzina bello lercio sotto al quale incrocio una vecchia laida in tuta di peluccio rosa il trucco sfatto reduce da chissà cosa che impreca contro qualcuno che non c'è una zona laggiù dove si abbozza via di novoli in cui la periferia non è più neanche luogo e un circolino con la sala cinesca aperta a mezzo come a chiamare i dispersi della notte a un primo caffè pare un'isola di ragione nella schizofrenia dell'asfalto e dei cavalcavia una strada dove il chiosco del paninaro ha ancora la decorazione anni 80 all'americana dove chi esce a portare fuori il cane l'incontro 2 lo fa in ciambatte tanto chi vuoi che incontri mi volto e vedo cartelli gialli e minacciosi con la sentinella stilizzata che dicono sorveglianza armata eppure quanto contrastano col sonno remissivo dei palazzi dell'istituto geografico militare del quale sono in teoria a guardia più giù nell'angolo con via baracchini un glicine senza più le radici o il fusto abbraccia la sua rete nero forte di rigor mortis le stringe ancora e poi ancora cartelli gialli altri cartelli militari sull'unico edificio storico in vista villa carobbi una piccola fortezza merlata che certo sarebbe difficile annoverare tra le meraviglie toscane o anche solo fiorentine e poi vecchi edifici senza storia ma solidi condomini a sette piani figli del boom degli anni settanta ogni piano quattro terrazzi ogni palazzo 28 terrazzi ognuno una tenda spessa di cotone verde scuro oppure blu qualche passo dopo sulla destra la strada fa angolo con via caduti cefalonia là intorno lo sguardo abbraccia due agenzie interinali e una di prestiti tre centri estetici team e wind eccolo il polso vero della periferia di un'italia che ovunque si fa periferia periferia generica tra un euronics un s lunga e uno star hotel uguali ovunque e ancora il palazzo della regione ampio e dimesso quasi bianco toscana lombardia o puglia il dubbio può avvenire a toglierlo ci pensa fatto qualche passo la chiesa di san donato in polverosa una massa solida severa di pietra scura angoli netti apertura nessuna un campanile che è una torre di guardia da abbazia una chiesa romanica abside a freschi e tutto posta lì in mezzo agli asfalti e alle polveri tra agenzie e telefonie come a ricordare al passante che ci troviamo pur sempre comunque in toscana e a firenze che possiamo comunque permetterci e si perdonerà il pensiero da francesi d'italia di dimenticare monasteri romanici così in mezzo alla periferia quando arrivo a via del ponte alle mosse nel mattino ormai maturo capisco che il momento per completare la missione è quello in corso supero il ponte alla vittoria sarebbe piaciuto alla mia amica essendo un valido contendente per il titolo di ponte più brutto di firenze e mi avvio lungo via pisana non verso la torre pendente ma pronto a fermarmi un bel po prima verso via di solicciano difficile da qui immaginare di proiettarsi verso altre e più amene toscanità forse a procedere a oltranza verso sud ovest linea d'aria si capisce si potrebbe arrivare alle torri san gimignano facile invece pensare al carcere al solo il potere di solicio secondo la centuriazione dell'agro fiorentino il carcere si è impossessato dell'immaginario divorando tutto il resto proprio come aveva fatto a suo tempo per le nostre isole e si era preso pure l'elba ai tempi cui ero studente di legge ancora persuaso della bontà di un percorso nella vocatura il professore di filosofia del diritto ci portò là dentro in visita l'impressione più che di minaccia fu di un'inestinguibile letale noia di un tempo dilatato e duro a morire ma da fuori la prigione è sempre la prigione e il carico intimidatorio resta così come per l'uomo libero che passa da via di solicciano il carcere appare minaccioso così per chi è là rinchiuso quei campi brulli e quei parcheggi pieni di erbacce macerie hanno un altro sapore quello della libertà e un altro aspetto quello di ogni bellezza della campagna fiorentina toscana e del mondo intero quando però ancora sotto l'ombra della prigione si incontrano nello stesso tiro di sguardo anche un cancello da villa di campagna senza i muri intorno e cavalcavia della firenze pisa livorno mentre in fondo i cipressi i cipressi annunciano addirittura il cimitero si capisce di essere proprio in virtù dell'intersezione tra realtà e immaginazione tra fatti e potenziale in uno spazio liminale toscano di inatteso spessore e se un warroll dei nostri tempi venisse davvero a dire che la strada più bella di firenze anzi di tutta la regione e via di solicciano forse giunti fin qui non la prenderemmo neanche per una provocazione giunti fin qui non la prenderemmo neanche per una provocazione